Venire a Volterra e non visitare la chiesa dei santi San Giusto e San Clemente è come andà... Ora mi viene l'esempio, poi ve lo dico. Probabilmente non ci sarei mai stato. Oggi però non vi voglio parlare della chiesa, oggi vi parlo di San Giusto e San Clemente. Vi ricordate San Cerbone e San Regolo che nel 537 dall'Africa arrivarono a Populonia, San Cerbone, insomma tutta la storia che va raccontata a Populonia? Ecco, insieme a loro c'era San Giusto e San Clemente. Loro però invece di fermarsi a Populonia si sono diretti fino qui, fino a Volterra. Qui a Volterra si impegnarono nella lotta contro gli eretici e si impegnarono a difendere Volterra dai goti che volevano attaccare Volterra, volevano conquistare Volterra. Dovete pensare Volterra letteralmente sotto attacco. Il re Totila stava attaccando Volterra e Giusto e Clemente hanno una brillante idea. raccogliere tutto il pane della città e calarlo giù dalle mura. Dovete immaginare i goti qui sotto le mura, qui ad attaccare Volterra, a provare a entrare dentro e da là sopra a un certo punto incominciarono a calargli giù il pane. Quindi immaginatevi voi loro che hanno detto ma porca miseria ma siamo qui che si attaccano e ci danno da mangiare? È stata una grandissima furbizia quella di Giusto e Clemente perché? Perché Totila a quel punto disse porca miseria ma se loro mentre sono sotto attacco ci danno anche da mangiare? Questi sono una potenza incredibile, questi avranno da mangiare all'infinito. Ecco perché San Giusto e Clemente sono nominati protettori di Volterra. San Giusto quindi diventa vescovo di Volterra e poi il 5 giugno morirono entrambi. Divennero quindi patroni di Volterra e vengono quindi festeggiati il 5 giugno.